Le temperature rigide degli ultimi giorni in città hanno provocato gravi disagi, soprattutto nelle scuole. In alcuni istituti, infatti, i termosifoni non funzionano e si sta correndo ai ripari. Alunni e docenti si presentano indossando i cappotti. Ed in quelle scuole, invece, dove i termosifoni funzionano, c'è qualcuno che ha pensato bene, anzi male, di danneggiarli. E' quanto accaduto nella scuola Antonietta Aldisio di Via Feace. Sconosciuti hanno danneggiato un tubo del calorifero con conseguente allegamento di un'aula e dell'intero corridoio. al primo piano dell'edificio. Secondo quando mi dicono i tecnici stamattina, qualcuno in un'ala dell'edificio che è stata data da qualche anno all'Anfe, dove si tengono corsi professionali, ha rotto un tubo, ritengo, dei termosifoni, per cui l'acqua che fu riuscita ha lagato non solo tutto il corridoio del primo piano, ma anche quello del piano rialzato che investe la scuola dell'Invanzia, che stamattina non sta funzionando per la d'abbenaggine di qualcuno. Ecco, cos'è l'Anfe? L'Anfe è un'associazione nazionale di formazione professionale. Negli anni passati, io sono qui, reggente del primo settembre, sono stati dati dei locali liberi a questa associazione, e qui si tengono dei corsi professionali di parrucchiere, di estetista e cose del genere. Anche questi ragazzi stamattina non sono potuti entrare. Ma cosa spinge chiunque a comportarsi in questo modo, provocando un serio danno alle attività scolastiche? Qualcuno che l'unico vantaggio che può ricavare è che l'indomani a scuola non ci va. Io non vedo altre ipotesi interpretative di questo gesto, oppure può essere stato il gesto di un vandalo, e i vandali spesso agiscono senza un fine né immediato né immediato. E questo ha provocato un danno anche economico, perché ci sono da spiandare dei soldi? Certo, infatti, ma a parte il fatto che stamattina alle 7 il primo collaboratore scolastico che è arrivato a scuola mi ha telefonato e mi ha costretto, l'ho fatto con piacere, ma avrei preferito che la cosa non si fosse verificata. Ho chiamato i vertici dei lavori pubblici e di Ghelas, che devo dire sono stati assolutamente solleciti, tant'è vero che li avete visti all'opera e sono venuti subito.